ne prenderò atto. C'è anche una domanda che riguarda la vicenda mia familiare, ma forse questa ce la potevamo anche risparmiare, però visto che c'è, per carità, però la domanda è posta in maniera intelligente, dice se io rifarei la dichiarazione quindi non entra nel merito della mia convinzione di padre tuttora esistente di credere a mio figlio, perché un padre può anche non credere al figlio, ma se ci crede a quello che il figlio gli racconta non c'è niente di male che lo dica, qua dice se lo renderei pubblico questo fatto, io l'ho detto mezz'ora dopo, quando ho visto subito una dichiarazione della signora Schlein che leggeva quella mia dichiarazione come se fosse rivolta alla ragazza, ho detto subito, sono frainteso, non ho mai inteso attaccare la ragazza e poi non sono intervenuto oltre, ho parlato con Giorgia una volta, ma se uno avesse letto con attenzione quello che io ho scritto avrebbe potuto, e li invito a farlo però lei non adesso, ma fa, che il mio riferimento non era la ragazza, ma era la scelta del difensore legittima di non la ragazza, il difensore, aspettare 40 giorni per presentare la denuncia, cosa che purtroppo ha reso impossibile l'esame dei video, quindi il mio problema era quello, non c'entrava niente alla ragazza, capisco che forse non l'ho detto in maniera chiara, no, non la rifarei, c'è la risposta, vuole una risposta precisa, ma non la rifarei soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che non c'era nessun attacco alla ragazza e di fatti da quel momento, come avete visto, mi sono assolutamente, anche perché in quel momento non c'era ancora chi rappresentava mio figlio, c'è un difensore, ma da quel momento ha avuto i suoi difensori tocca a loro.